Taxi di Argenio Panseri Arigoni Conti orchestra diretta dal maestro Natale Massara la prima versione è di Antoine 18 lunedì dovevo andare lì ricordi cuore mio come pioveva e proprio in quel momento l'ho vista che saliva sul taxi c'è posta che per me lei mi risponde sì se tu per caso vai per la mia strada perché, perché, perché la strada si accorciò perché, perché, perché siamo già arrivati ma perché Taxi, Taxi il mio amore è finito lì Taxi, Taxi è finito quel lunedì Io sono tornato ancora in quella strada per incontrare lei, per incontrare lei e alla fine di quella strada era la fine di quell'amore Taxi, Taxi io amore è finito lì mai, mai, mai io scorderò come pioveva grazie a tutti 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 perché, perché, perché la strada si accorciò perché, perché, perché Taxi, Taxi Taxi Taxi, è finito quel lunedì Taxi, Taxi il mio amore è finito lì Taxi, Taxi è finito quel lunedì ancora Taxi, Taxi il mio amore è finito lì Taxi, Taxi il mio amore è finito lì Taxi, Taxi Taxi, Taxi il mio amore è finito lì il mio amore è finito lì